La vaccinazione è di prossimità per tentare di combattere la pandemia da Covid-19. E se il vaccino non viene erogato proprio casa per casa, almeno nella casa di tutti, il municipio. Anche oggi e domani a Catania sarà possibile vaccinarsi a Palazzo degli Elefanti. Dalla scorsa settimana, infatti, il sabato e la domenica, il municipio del capoluogo etneo si trasforma in un polo vaccinale. Per l'occasione, i locali dell'ufficio relazioni con il pubblico al piano terra, dalle 10 alle 18, ospitano medici e vaccinandi. Non è necessaria la prenotazione ed è possibile ricevere una delle tre dosi del vaccino Pfizer. Lo scorso weekend in Piazza Duomo l'hanno ricevuta 117 catanesi. Secondo l'ultimo bollettino settimanale diffuso dalla regione siciliana, infatti, Catania e Messina registrano la più alta incidenza di nuovi casi nella settimana trascorsa. Al capoluogo etneo spetta anche lo scettro di città con il più alto numero di contagiati ricoverati in ospedale. 11 sono in terapia intensiva, 107 negli altri reparti Covid. Poiché la provincia etnea è anche sotto la media regionale in quanto a percentuale di vaccinazione eseguite, i punti vaccinali di prossimità sono una strategia che il commissario straordinario Pino Liberti tenta di perseguire. Oltre al già citato Palazzo degli Elefanti, diventa punto vaccinale anche il centro commerciale ciclope di Acireale. Giovedì 25 e venerdì 26 novembre dalle 10 alle 18, medici, infermieri e personale dell'Asp saranno a disposizione di chi va per lo shopping e vuole eseguire anche una prima, una seconda o una terza dose di vaccino.